39 persone sedute attorno ad un tavolo a cenare, niente, mascherina. Una scena incredibile in tempi di pandemia, quella che si sono trovata davanti i carabinieri di Campo d'Arsego, intervenuti domenica sera a Borgo Ricco in via Musona al circolo Amici della Sardegna. I comensali stavano cenando tranquillamente in barba alle disposizioni anti-covid, molti arrivavano da altri comuni e nessuno rispettava le distanze di sicurezza o l'uso della mascherina. I militari dell'arma sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di alcune persone insospettite dal notevole andirivini di auto nel parcheggio del circolo. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno iniziato ad identificare le persone all'interno, nonostante le rimostranze del titolare e dell'attività di ristorazione. In supporto sono arrivate così anche le pattute dei carabinieri di Cittadella. Molte le sanzioni che partiranno nei confronti dei commensali per il titolare del circolo Amici della Sardegna scatta anche la multa per aver somministrato cibi e bevande all'interno del locale quando invece le disposizioni anti-covid consentono solo l'asporto e la consegna a domicilio.